Oggi al voto per il ballottaggio nei comuni di Ortona e San Salvo, seggi aperti dalle 7 alle 23. Sono 22.098 gli aventi diritto al voto a Ortona, ma 9.218 gli essi hanno disertato le urne al primo turno, nel quale l'affluenza è stata del 58.29%. Sono chiamati a scegliere tra Leo Castiglione e Lario Cocciola, i cittadini, la squadra del sindaco uscente è composta da 5 liste civiche, cittadini consapevoli, forza Leo per Ortona, il comune delle idee, la città ideale e Ortona civica. D'altra parte lo sfidante Cocciola, ex presidente del Consiglio Comunale durante l'amministrazione di centro-sinistra ad Ottavio, supportato da 7 liste, Ortona popolare, il faro DC, democratici per Ortona, Ortona coraggiosa, Ortona cambio, Ortona territorio, alle quali, dopo l'apparentamento raggiunto in vista dei balottaggi, si sono aggiunte le 5 del centro-destra di Angelo Di Nardo, Lega, Fratelli d'Italia, Ortona sociale, Ortona futura, libertà e bene comune per Ortona. Oggi si vota anche a San Salvo per scegliere il nuovo sindaco tra Emanuela De Nicolis, centro-destra, e Fabio Travaglini, centro-sinistra, allargato. Potrebbe essere rilevante dunque il comportamento dell'elettorato che il 12 giugno ha affidato il suo voto al candidato Giovanni Mariotti, anche egli dell'area del centro-sinistra. A San Salvo al primo turno l'affluenza è stata del 65,03%. Reteotto seguirà in collaborazione con il centro-Rospoglio nelle due città, Ortona e San Salvo, in tempo reale con la diretta TV e streaming che inizierà stasera alle 22.45, in collegamento con i comitati elettorali dei candidati e con la redazione del Quotidiano d'Abruzzo. Risultati aggiornati in tempo reale sul sito www.rettiotto.it